ciao a tutti oggi prepareremo il plum cake mascarpone e palla il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono farina di tipo 00 mascarpone a temperatura ambiente liquore all'arancia facoltativo panna fresca per dolci a temperatura ambiente vanillina zucchero semolato uova medie a temperatura ambiente lievito per dolci vanigliato e sale e granella di zucchero per decorare diamegli alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame mettere le uova e lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 10 minuti a velocità 4 senza misurino aggiungere la panna ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3 aggiungere il mascarpone ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3 togliere la farfalla dalle lame aggiungere la farina il sale il sale la vanillina il liguore all'arancia e il lievito ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 il composto è pronto versare in uno stampo da plum cake ben imburrato spolverizzare con la granella di zucchero cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa il plum cake è cotto lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo plum cake mascarpone panna grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti